Non sappiamo cosa ci è mancato prima che arrivi. Tanto per cominciare mi manca non poter più dormire fino a tardi se proprio vogliamo partire dalle cose più ovvie e banali. Uè, ma un caffè là ci fa pure a te stammati in canta a ripincio. Ma va che significa? Io? Io che non ho idea di cosa mi manca. Che assurdità. 29 anni, singolo, lavoro. Diciamo l'unico che ho trovato. Ma cosa posso volere di più dalla vita? Quello che vogliono tutte, no? Amore, soldi e indipendenti. Fatti? Come mai ne è venuto Tony? Potevi portarlo? E non fatemi diventare peronese, sono tirosovo. Chi è lo so? Chi è lo so? Chi sta ma gagne la vita? Vieni a cena con me? Sì, sì certo. Federico. Più che la vita ti ha gagnato proprio la faccia. E io questo, vorrei al di là di tutto. Come mai siamo soli? Ho affittato l'intero ristorante. Un uomo perfetto. Sì Fabio, ma rendi conto? Mi ha umiliata, mortificata davanti a tutte. Oddio. Grazie a tutti. Grazie a tutti